Non vi porto alla libertà, l'ho trovata qui, tra voi. Abbiamo solo il giorno e la strada è ancora lunga. 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 La vecchiaia. Nessuno ti ha chiesto di seguirmi. La tua è una scelta difficile. Voglio essere sicuro che tu faccia quello giusta. Come potrebbe un vecchio guidare il mio fado, soprattutto quando si trova nel mio accampamento. Avrei potuto giustiziarti. Però sei qui. Superbia! Superbia! Tratto turco del guerriero più potente di tutto l'impero ottomano. mostrami. avventatezza. Avventatezza. Janos uniti. Amati, voglio che sia tu a guidare l'esercito contro di lui. Il mio più grande esercito. E' servito il mio impero in tutti questi anni. Quando tornerai, saprò ricompensarti. Hamza. Abbandonerò l'esercito nella notte. Torneremo in Albania. Per il popolo. Per mio fratello. Torneremo a casa. Voglio che tu sia con me, nipote. La natura. Ha svariati modi per mostrarci il cammino. E' una ragazza. Nel mio sogno lei è lì. Ma non so chi sia. La natura vuole che tu veda. Cosa? Tuo padre si dice sia stato un grande condottiero. Il suo senso della libertà l'ha spinto a sbagliare nelle cose importanti. Lottò strenuamente per la libertà delle proprie terre, sino in fondo. Cosa? Il suo senso. Il suo senso. Caninhà, tuo? Il suo senso. Lottò strenuamente per la libertà del mondo. Lottò strenuato. Mi parecchio. Il suo senso. Prendete tutto, ma non la sua vita. Vinci, la tua vita non la rifiuteremo. Generale. La tua vita non la rifiuteremo. 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 Guarda, figlio mio, questa è la tua terra, la tua patria. Non dimenticarlo. Non parteciperai alla battaglia di domani. Quando gli ottomani vinceranno, tu diventerai il tutore di mio figlio. Sarai sempre con lui. Sarai gli occhi e le orecchie della patria. Se dimenticherà la terra dei suoi antenati, tu risponderai a Dio e a me. Cosa ti ha spinto fin qui? Non l'ho mai dimenticato, sai. Ma non avevo i mezzi per fare quel passo. Potevi ribellarti. I miei fratelli l'hanno fatto. Coraggiosi. Qui sono solo io. Cosa ti spinge a farlo? Il sultano ti ricompenserà con terra e potere e oro. Solo se tornerai vincitore, ovviamente. Oro e potere. Ma pur sempre solo uno schiavo in una terra straniera. E allora perché sei qui, se sei sicuro della tua scelta? Oro e potere. Ultima tappa. Le nostre strade si dividono. Puoi trovare le tue risposte soltanto da solo. Fidandoti esclusivamente di te stesso. Ricorda. Finché non lo troverai, Sarai solo. Proverai. Grazie. Grazie. Uccidi il passato, è l'unico modo per sopravvivere. Dovresti essere al campo con i tuoi uomini. Perché vuoi tornare là? Dove ne hai più niente e nessuno. Da te non me lo aspettavo! I tuoi fratelli sono morti. Tuo padre stesso è morto! Avanzi! Mi hai costretto tu a partire. Ritrova te stesso. Ti è stato fatto un grande dono. Chi è? Il cuore di tuo padre e tua madre vive in lei. Mia sorella. Come nel suo cuore è racchiuso quello del tuo popolo. Amza mi ha tradito. Non lasciare che la paura ti mostri ciò che vuole. Combattila! No! Quando ti ho trovato, ho visto un potere grezzo, indomido, pronto ad essere plasmato. Un uomo destinato a grandi corsi. Mostrasi il cammino. Sei solo, Scanderbeu! Castriota. 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 Ricorda chi sei e a chi appartiene il tuo spirito e il cuore. Ora hai gli occhi per vedere. Guarda! Non vi porto alla libertà. L'ho trovata qui. Tra voi. Un giorno tutto questo sarà tuo. Non dimenticarlo. No! Allora... Sento gommini che raccolto sono in fomento, in attesa della tua decisione. Cosa gli diremo? Che torniamo a casa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.